Al posto del mare o della montagna, il letto di casa. Colpa della polmonite che a luglio e anche in questo inizio di agosto ha colpito circa 8.000 italiani, soprattutto anziani e bambini. Possiamo stimare che a luglio, avverte Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, ma continua anche in questa prima settimana di agosto, siano stati colpiti e ricoverati circa 8.000 con nazionali, un dato superiore rispetto alla media del periodo. La colpa è del clima ballerino e delle temperature che durante la sera scendono sotto le medie sagionali e agevolano i virus respiratori e gastrointestinali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ogni anno la polmonite uccida 1,2 milioni di bambini con meno di 5 anni, il 18% di tutti i decessi in questa fascia d'età.